Il silenzio delle colline, la pace del lago Trasimeno, il sole primaverile. Di questo si nutrono gli olivi di Passignano, immersi tra l'acqua e il cielo, ma anche tanti terreni incolti, vecchie proprietà nobiliari abbandonate. A recuperarli hanno pensato tre donne, arrivate dal sud. E forse questa estranetà al paesaggio umbro ci ha dato la capacità di vederne la bellezza. Paola, Antonella ed Emanuela nel 2014 hanno creato l'associazione Le Olivastre e quest'autunno hanno prodotto i primi 200 litri di olio, ma l'obiettivo è soprattutto riportare il paesaggio allo splendore originario. L'idea quindi è trasformarli o comunque valorizzarli per quello che sono, cioè dei veri e propri monumenti. Oltre al recupero e alla gestione di 4 ettari di oliveti, le Olivastre organizzano corsi di potatura e di degustazione di olio extravergine di oliva. Con gli extravergini di qualità che avanzano nelle sedute di assaggio, producono saponi artigianali e da poco hanno dato vita a un piccolo zafferanito. Abbiamo lanciato una campagna comunicativa che si chiamava Adotto un bulbo e ha avuto un enorme successo, quindi siamo riusciti ad acquistare i bulbi, a piantarli e abbiamo prodotto un ottimo zafferano. I terreni delle Olivastre saranno presto be-friendly, ossia pronti a ospitare alveari di api. Lavorare la terra e non solo, per Paola e le altre dedicarsi agli olivi vuol dire anche imparare a vivere seguendo i ritmi della natura. Il rapporto con ciò che le circonda infatti è cambiato profondamente da quando hanno deciso di abbandonare uffici e contratti precari. È un rapporto più consapevole, secondo me. Il paesaggio è tale perché l'uomo ci ha messo il suo zampino. E per sfruttare le belle giornate in arrivo, le Olivastre stanno organizzando un percorso guidato alla scoperta della rocca di Passignano e delle colline circostanti.